Ciao a tutti amici benvenuti su questo mio nuovo video è una cosa molto speciale per me ho aggiunto i 100 iscritti mi ringrazio tantissimo abbiamo aggiunto un grande d'agguardo sono molto contento di che la mia comunità ci sia ampliata così tanto per raggiungere ben 100 iscritti in cui ci troviamo tutti in armonia tutti possono dire la propria quindi è una comunità così come deve essere ovviamente io si prendo le decisioni ma siete voi che dovete scegliere perché se ho raggiunto i 100 iscritti voglio portarvi qualcosa di speciale qualcosa di nuovo purtroppo per mancanza di tempo non posso fare molti video anche a causa della scuola ma possiamo fare una miniserie una miniserie in cui sarete voi a scegliere tra tre nazioni più o meno una catamonia bene sì una catamonia quindi sapete i nostri obiettivi quali sono non c'è bisogno che ve lo dica una grecia e come ultima ma non meno importante una narvegia perché no una narvegia che è molto interessante queste sono le tre nazioni sbagliate a dire scusate sul quale vorrei basare la mia miniserie vorrei che scrivate nei commenti quale tre nazioni volete che io vi porti a me personalmente ci piacciono tutte e tre quindi non farò preferenze ovviamente se i voti sono tipo 4-4-4 sarò io a decidere se potete e se volete ditemi quale nazione volete che vi porti e niente questo è tutto il ringrazio ovviamente vi farò nel prossimo video questo è solo un'anteprima vabbè ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto ovviamente ci sono pochi minuti quindi niente di che commentate soprattutto sotto nei commenti e niente ciao ragazzi ciao